Bentornati ragazzi nel 22esimo episodio di Alan Wake Nello scorso episodio siamo riusciti ad scappare da una minaccia abbastanza incombente dei treni E pensate che a me piace gli origini dei treni Ok Anche se mi pare che sto vesto l'abbiamo già fatto Beh mi sa che il punto di controllo era un po' più indietro E vabbè Non abbiamo fatto tanto alla fine Ok Che dovevamo fare Ah si Le fane sono leggermente smemorate Pensavo che avesse salvare un po' più avanti Invece no E vabbè Non è successo niente Scusa Porniamo indietro Le granate accecanti non rientravano nell'attrezzatura standard della compagnia elettrica Posso entrare dentro la macchina? Penso di no Accidenti Io ora non so dove devo andare Immagino che il punto giallo siano gli obiettivi qui Quindi Dai non ti puoi mettere l'attrezzatura Adesso Mantena c'è a te Oh E' mica in plono Ok Seria un po' troppi per i miei gusti Lo sapete? Perfetto Perfetto Mamma mia Altra pagina Altra pagina del manoscritto Questo apparecchio ormai che ho trovato Ma sempre questi punti panoramici Ma che c'è stato per così panoramico? Scusatemi No Vado andando direttamente al punto Mio Dio Veramente sei crampo Mio amico mio Sento come la morte Oddio no La morte è molto più veloce Non diciamo blasfemie Non avevo un vero piano Avrei dato all'arbitore Tutte le pagine manoscritte In cambio di Alice Se non fosse bastato Gli avrei puntato addosso la pistola Per farlo parlare Perché secondo te Serpile fa qualcosa? Sei furbo eh Mi dicono che sei una furbizia Esplodi maledetto Il problema grosso È che non so dove devo andare Di solito Devo andare verso la luce Quindi immagino che E immagino che sto andando Nella direzione sbagliata Uccidentaccio Ok ormai dovremmo essere Quasi salvi Ma che è sta panoramica Di merda Che non serve a niente Ok Un punto io Un trollo raggiunto Cosa? La presenza oscura mi precedeva Andava nella mia stessa direzione Un senso di gelo Mi si insinuò Nella bocca dello stomaco Stava andando da Alice Un cimitero Un cimitero Un cimitero Dove sono? Un cimitero Cioè raga Allora Qui c'è un problema Di fondo Ma io scappo Non me ne frega niente Amico posso sta presso a questo Io eh Suga Ok ragazzi Ok ragazzi Per questo video Dove può essere tutto Vi ringrazio di aver visto il video Lasciate un like e un commento Se volete Condividere il video Anche sempre Se volete Dal basso giunto Vi ringrazio di aver visto E tutto Stay hollow